25 anni, palestinese, ucciso dalle forze israeliane in Cisgiordania. È successo durante un blitz per arrestare un sospetto. L'esercito israeliano ha dichiarato di essere entrato a Yabad, vicino a Jenin, per catturare Abd al-Ghani Arzallah, sospettato di attività terroristiche. Negli ultimi mesi ammontano più di 3.000 gli arresti in tutto il territorio. I funzionari dell'esercito israeliano hanno anche sostenuto di aver aperto il fuoco, dopo che alcuni uomini armati hanno sparato contro i soldati. E dopo che ordigni esplosivi sono stati lanciati nell'area.